Ricordi che si interacciono con la storia del nostro paese una raccolta di testimonianze da cui nasce un documentario alla ricerca del nonno mai conosciuto. Dora, quando tuo nonno morì tu non eri ancora nata. Cosa ti ha spinto a decidere di ripercorrere la sua storia? In realtà me l'ha chiesto il produttore esecutivo, che si chiama Daniele Sposito, e io all'inizio non volevo. E poi ho pensato che fosse doveroso sia nei confronti della mia famiglia che doveroso come cittadina. Questo documentario raccoglie numerose testimonianze. Chi hai intervistato? Ho intervistato il procuratore Caselli, il giudice Spataro, il generale Secchi, Attilio Bolzoni, Franco Latorre, il mio padre e le mie zie, i miei cugini e il giudice Turone. Si tratta di una produzione nata dal basso? Sì, in realtà sì, però non abbiamo preso tanti soldi. Con una produzione dal basso però non abbiamo avuto finanziamenti pubblici. Il ministero non ha ritenuto di importanza culturale nazionale. Quindi è un documentario prodotto da privati cittadini che tentivano di dover lasciare ai loro figli questa memoria. Qual era l'idea che avevi di tuo nonno quando eri bambina? Ma tipo che fosse morto in guerra, fondamentalmente. Poi guerra era vera, però non avevo la percezione di quello che era successo. E quando hai iniziato a capire realmente come erano andate le cose? Per i 12 anni aprendo un libro di storia a scuola, perché sono un anno avanti a scuola, quindi avevo 12 anni. E dovevi esercitarti, leggere un articolo in giornale e nell'esercitare di storia c'era un articolo sulla morte di mio nonno. E a chi hai posto le prime domande? A mia madre. È stato ingombrante per te portare il cognome di un uomo che ha vissuto in prima linea contro il crimine? È ingombrante non è la sola età, è responsabilizzante. Nel senso che non ti puoi permettere per te stesso delle azioni che non ritieni giuste. Anche prendere una multa sul stampo. Nel giorno della commemorazione del generale molte istituzioni hanno ricordato l'estrema solitudine in cui venne lasciato. Non è un mistero che non pochi palazzi del potere gli avevano manifestato ostilità. Lo stesso procuratore Caselli ha detto che dalla chiesa era fumo negli occhi per alcune parti politiche. È stato un amicidio di Stato, quello di mia nonna. In Italia è lunga la lista dei servitori dello Stato vittime dello Stato stesso. Secondo te che rapporto abbiamo noi italiani con la memoria e con il ricordo di chi è morto per il bene comune? Pessimo. Abbiamo veramente un ricordo pessimo. Se ce ne ricordassimo pianamente, non solamente durante le commemorazioni degli anniversari, forse il nostro paese non sarebbe ridotto così ora. Cosa ti piacerebbe che pensassero le persone che vedranno il tuo documentario? Spero che stavano in uno stimolo per la direzione giusta. E se potessi incontrare anche per un solo istante tuo nonno, che cosa gli diresti oggi? Per un secondo gli direi grazie. Se avessi più tempo gli chiederei degli insegnamenti.